ma sarà l'unico e direi proprio di noi oh che meraviglia bruttino ma si mangia lo vedi? lo vedi? guarda un po Teddy eh? Teddy non ti muovere, segui con me ciao che meraviglia wow qualcosa c'è ma sono piccoli eh, sono proprio piccoli tipo questo qua no? tipo questo qua è piccolo, è piccolino, lo lasciamo qua che magari cresce, è piccolino eh, è piccolo piccolo ma non l'avevo visto ma c'è anche il fratellino minore oh piccolo piccolo vedi? è qua poverino poverino vieni caro vieni con noi non è mica finita eh non è mica finita perché proprio vicino vicino oh 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 mamma mia che bello wow grazie 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 grazie